Si riaccendono le luci al Franchi con la Fiorentina che nella serata di sabato 7 agosto alle 19 affronterà l'Espagnolo nella prima edizione dell'Umbitable Cup, un torneo che accoglie anche Roma e Betis Siviglia. Il torneo voluto da Nicola Innocentin, procuratore FIFA, avrà l'obiettivo di sensibilizzare sulle cardiomiopatie, sulla presenza in tutti i luoghi di defibrillatori e sulla formazione al primo soccorso. Non un caso che siano proprio il Fiorentina e l'Espagnolo a partecipare a questo torneo dopo le tragiche scomparse di Davide Astori di 4 marzo 2018 e di Daniel Harke scomparso mentre si trovava in ritiro a Coverciano come capitano dei biancazzurri di Barcellona. Il Franchi per l'occasione potrà contenere poco più di 2500 persone e il settore aperto sarà solo quello di Maratona. La vendita dei biglietti è partita alle 15 di martedì 3 agosto. La vendita dei biglietti è partita alle 15 di martedì 3 agosto.